Benvenuti a tutti, grazie di essere qui. Quest'iniziativa organizzata al Comitato 332 è nata con l'obiettivo di riunire varie realtà che hanno avuto a che fare in questi anni con la protezione civile. Ovviamente a partire dalla situazione aquilana, ma guardando a un livello di carattere nazionale, senza altro, la protezione civile ha agito in quasi tutto il paese, nell'emergenza dei rifiuti a Napoli, nella gestione mondiale di nuoto di Roma, e quindi abbiamo provato a invitare le realtà che hanno avuto a che fare con queste emergenze o grandi eventi. Volontari, sindacati, esponenti politici, vogliamo provare ad aprire una discussione in forma anche reticolare, aperta, che riguarda la trasformazione della protezione civile. Partendo da un obiettivo di brevissimo termine, cioè impedire che la protezione civile si trasformi in una società per azioni con l'approvazione e la conversione in legge del decreto, già pubblicato in gazzetta ufficiale il 30 dicembre, che istituisce la protezione civile S.P.A., che noi intendiamo come punto di arrivo di una trasformazione della protezione civile di tipo molto lungo nel tempo e che è iniziata senz'altro a partire dal 2001, quando col governo Berlusconi è arrivato Guido Bertolaso a dirigere la protezione civile. E se è giunta alla... da quel momento si sono potute utilizzare le ordinanze di protezione civile con il loro straordinario potere di deroga, non solo nel caso delle emergenze, ma anche nel caso dei grandi eventi. Poteri che sono stati utilizzati in numerosissime occasioni, abbiamo calcolato che sono oltre 600 le ordinanze di protezione civile varate dal 2001 a oggi. Allora noi vogliamo impedire che passi questa protezione civile S.P.A., ma la vogliamo impedire come punto di arrivo di una trasformazione appunto di lungo corso della protezione civile. Vogliamo ragionare su come si può riportare la protezione civile alla sua logica originaria, che noi intendiamo così, come strumento democratico di autoprotezione dei cittadini. Mentre oggi è tutt'altro, è un concentrato di potere assoluto, perché sciolto da ogni controllo, di tipo legale e di tipo democratico, capace di imporre sul territorio la propria forza, anche con strumenti militari, come è accaduto ad esempio a Napoli, con la sottrazione di pezzi del territorio nazionale al controllo democratico, trasformandolo in siti di interesse strategico militare. Un potere che è anche economico ed è emblematico da questo punto di vista, la dichiarazione del Presidente Lance Buzzetti di pochi giorni fa, che per paradosso teme la concorrenza, lui Presidente della S.P.A. nazionale costruttore edili di un S.P.A. a totale capitale pubblico che può agire con questa forza e con questo potere. Ed è un potere di tipo anche propriamente politico, perché le emergenze sono state utilizzate in numerosissimi casi, molto spesso per concedere a sindici e Presidenti di Regione il potere di derogare le norme ordinarie e di superare il controllo degli organismi elettivi, secondo una logica per cui il potere scende dall'alto verso il basso e non trova più origine nel voto e nell'espressione del volere popolare. Noi crediamo che questa trasformazione della protezione civile potenzialmente si può espandere a tutto il territorio nazionale e che dietro c'è un modello politico e sociale che si può esportare. Silvio Berlusconi l'ha anche detto che questo Paese andrebbe governato con la protezione civile, con una logica che passa per efficientismo e in realtà altro non è che una logica non democratica e che oggi si sta provando a esportare anche Haiti, dove l'Italia prova a entrare all'interno del gioco delle potenze internazionali sulla gestione degli aiuti e della ricostruzione, sugli affari che possono essere legati alla ricostruzione. Oggi ci chiediamo e domani cosa potrà fare se questo modello è esportabile la protezione civile? Potrà ad esempio imporre la militarizzazione del territorio e gestire i lavori per l'alta velocità in Val di Susa? Potrà decidere di intervenire sul nucleare e quindi sottrarre di nuovo al potere dei cittadini e degli enti locali la possibilità di decidere? Allora, torno al punto. Il nostro obiettivo è costruire una campagna nazionale contro la trasformazione della protezione civile SPA per tornare a una protezione civile come autodifesa democratica dei cittadini sul territorio nazionale. Lo vogliamo fare con vari strumenti in una forma appunto reticolare, raccogliendo documentazione, informazioni, coinvolgendo i comitati dei cittadini, il mondo del volontariato, che è un pezzo importantissimo della protezione civile che ha bisogno di esprimersi e di parlare di prendere posizione rispetto a quel che sta avvenendo. Vogliamo coinvolgere gli enti locali che già si sono espressi contro questa proposta. Vogliamo anche sostenere, se essa partirà con forza come speriamo, la battaglia parlamentare che si svolgerà, speriamo, nelle prossime settimane e mesi contro la conversione in legge di questo decreto. Abbiamo preparato un documento che girerà per l'Assemblea. vogliamo sia una base di discussione emendato, se necessario, col quale daremo vita a partire da un sito internet, delle mail, una campagna di informazione che vogliamo espandere il più possibile per lanciare una battaglia che oggi qui magari trova il suo inizio su questa questione della protezione civile SPA, ma che domani può ragionare su un'altra possibile protezione civile. Allora, detto ciò, io inizierei senz'altro con quegli interventi. Abbiamo provato a dividere la discussione in due parti. Una prima parte, diciamo, più di testimonianza, analisi, racconto, cosa è stata la protezione civile fino ad oggi. E una seconda parte, nella quale vogliamo entrare nel merito della battaglia politica che si apre su questo tema. Gli interventi previsti sono molti. Noi speriamo vivamente che molti altri se ne aggiungano, di cittadini, sindacalisti, rappresentanti dei partiti politici che hanno deciso di intervenire. È un'iniziativa che è nata in tempi brevissimi, quindi non siamo stati in grado di costruire sin dall'inizio la rete ampia che è necessario mettere insieme per condurre questa battaglia. Quindi aspettiamo altri interventi. Quindi i tempi dovranno essere necessariamente stretti. Abbiamo calcolato circa sette minuti a intervento, ovviamente in maniera flessibile, ma essendo gli interventi previsti già 15, rischieremo di far notte. Quindi diamo inizio alla discussione. Alessandro Tettamanti, il Comitato 332. Alessandro Tettamanti, il Comitato 332.